Si arriva a un punto importante, quello in cui ci sono stati interventi di netto efficientamento e miglioramento delle infrastrutture e delle strutture di trasporto. Basti pensare all'esplosione positiva del trasporto aereo nei nostri aeroporti, al tentativo di mettere a sistema la rete dei porti, all'abbattimento dei fattori di criticità nelle strade, abbiamo un'incidentalità stradale che tende a diminuire perché stiamo intervenendo sulle strade della morte. Insomma abbiamo fatto questo, abbiamo costruito una visione, abbiamo fatto tanti interventi, ora mettiamo a sistema l'idea di una Puglia nella quale le aree metropolitane non devono essere più decongestionate dal trasporto prevalentemente privato e questo significa mettere in connessione il trasporto su gomma, quello su ferrovia, diciamo collegare le diverse modalità di trasporto. Abbiamo il lancio di un'idea fantastica che è quella di lavorare sul potenziale di 4.000 km di rete ciclabile perché questo diventa un asse strategico dell'attrattività territoriale, interveniamo abbattendo passaggi a livello e abbattendo tutti i punti di frattura dentro le aree metropolitane, provando a collegarci con le parti più periferiche del territorio, provando a collegare i poli dell'eccellenza sanitaria, i poli universitari, i luoghi più importanti della vita sociale, a modalità di trasporto, in modo tale che ogni cittadino pugliese possa raggiungere il luogo per le proprie necessità. E in più immaginiamo anche la modernizzazione della conoscenza, un clic sul telefonino e ti consente di sapere come raggiungere qualunque posto del mondo, dal tuo paesello della Puglia e quali sono tutti i mezzi di trasporto, i differenti mezzi di trasporto, gli interconnessi mezzi di trasporto che ti servono per raggiungere la meta. Mi pare un'operazione molto molto importante.